bello a tutti raga bentornati sul mio canale youtube nel video di oggi l'unboxing di tante belle cose un bel po di roba ma iniziamo innanzitutto dall'abbigliamento che ho preso dal negozio degli uberti qui a roma e tra l'altro lascio per voi miei iscritti come faccio spesso un codice sconto se volete comprare appunto dal website web store dietro gli uberti il codice sconto lo lascio qui è barengo 10 e tra il link dello store in descrizione potete acquistare appunto tutti i prodotti del sito quasi tutti non sono quelli che vi faccio vedere qua nel video con il 10 per cento ulteriore di sconto su già gli sconti attivi appunto sul sito degli uberti iniziamo a vedere i pezzi questa t-shirt brendaliano bonsai che non so se lo conoscete ma fa belle t-shirt con lavaggi tie dye questo è veramente un bel lavaggio per una scritta serigrafa dalla guardate c'è un tie dye però non è scontato come tie dye vedete è una specie di verde mela assieme a del grigio come colorazione maglia outfit parecchio over direi perfetta per l'estate il codore è abbastanza secco però anche i colori un po spugnosi un po gommosi quindi veramente un buon acquisto questa veniva 130 euro e la potete acquistare col 10% di sconto e si aggiungeva gli sconti già attivi sul sito degli uberti poi abbiamo camicia del brand aries camicia con colletto cuban perfetta per l'estate pure questa stampa tipo un misto di bandana con una greca la greca che tra l'altro vedete fa lo spelling di c'è scritto aries prente veramente molto figa il tessuto mi sembra rayon che è molto leggero e perfetto per l'estate e stimi più caldi e questa viene 289 euro prima degli sconti e lo trovate sul sito di degli uberti non vedo l'ora di indossarla perché in prima di ciole camicia e bandana tutte colorate di capital però è addio sono di un cotone a parte sono maniche lunghe ma sono di un cotone che d'estate un po comunque ce soffri quando fa caldo poi classico in questo caso fino al vari di stone island questo è di cp con il logo cp una targhetta ricamata qua come patch ed è un costume con un nylon metal vedete l'esplumatore di colore che fa appunto questo crepe di nylon è un costume colore nero super classico una hit estiva sia fuori che dentro l'acqua che questa comunque è uguale a un look a uno short quindi questo costume di cp infine poi abbiamo una t-shirt classica del brand francese drol de monsier mini logo anzi mini slogan perché lo slogan del brand not from paris madame e questa viene 95 euro super clean proprio una cosa che poi metti tutti i giorni molto bello questo dettaglio piccolino con il motto del brand questa estate me la sparerò parecchie volte negli outfit infine per ritornare sempre nei utili bandana anche se questo in realtà è un pattern paisley si tratta di una camicia a mani corte sempre pure questa estiva del brand francese api si eccola qua veramente veramente bella con questo colore marrone questa è un po più un po meno street ovviamente un po più classico ora però per le sere stile con uno a scena fuori i locali insomma adesso che ci siamo nella testa crisi di pandemia dalle palle speriamo insomma è bello iniziare a vestirsi un po meglio per andare a fuori tra l'altro i bottoni sono tutti in madre perla in vera madre perla che si vedono tutte le diciamo tutti i colori anche dietro veramente un bel una bella combinazione di pattern e di colori tutti questi pezzi trovati sul sito di uberti appunto come potete applicare il codice sconto barengo 10 per ottenere dell'ulteriore sconto però l'ingombrante di off white perché troviamo presa fascia targhetta si tratta del zerbino del tappeto di off white si sono fatte pochissimi pezzi sta il logo qua in la targhetta arancione e niente una bomba fuori fuori la porta di casa sperando però che nessuno si ne inculita e starebbe fuori dalla porta oppure me lo lascio dentro casa davanti alla porta finestra sul balcone costava 100 euro che sono un prezzo onesto alla fine se pensate a quello di ikea tra virgile e ikea che ovviamente era molto più grande era tipo tre metri per uno però costava comunque retail a ikea costava 300 euro per questo retail 299 quindi passiamo adesso alle dunk ormai mi sentite mai facendo un paio di dunk ma questo è un paio super speciale di cui ne ho parlato anche in un post apposito più di un mese fa oramai su Instagram si tratta infatti delle nike what the period un omaggio per gli atleti nike più insomma che stanno da più anni sotto la casa appunto di di portland e si tratta di paul rodriguez sono gli skater tra l'altro più forti al mondo che oramai alla sua veneranda età ha fatto ha rilasciato con nike più di tipo di 30 scarpe di 30 colorway delle sue signature e per quanto se no se avete letto il posto di ministra un posto un mese fa lo lascio qua prende questa silhouette riprende il concept delle what the dunk uscite più di dieci anni fa che riprendevano vari pezzi pannelli di colorway iconiche di dunk sb e le riunivano assieme ecco questa riprende infatti ci sono una marea di lacci diversi questa riprende tutte varie colorway di signature shoes di appunto di port rodriguez per nike sb però la maggior parte delle quali anzi tutte tranne una se non erro non sono dunk ma sono proprio modelli di scarpe di età atleta poiché appunto la signature shoe di port rodriguez per nike si chiama p-rod ce ne sono state tantissime alcuni si chiamano p-rod 1 p-rod 2 insomma viene rilasciata uno ogni anno come accade quelle come è accaduto con le jordan di me con le jordan anche con le lebrone o le cobi insomma nel campo ad esempio del basket veramente un guardate anche dubri sono diversi questa è quella delle dunk ai a tema messicano di wrestling messicano c'è l'anno scorso queste sono le p-rod se non sbaglio sette mexican blanket p-rod elephant che riprende ovviamente la jordan 3 insomma c'è veramente tanta attraverso le amp appunto cioè questo pannello è fatto in canapa qua abbiamo fake pattern tipo di gucci però invece di gg scritto p-r ovvero paur rodriguez veramente una scarpa con una miriade di dettagli una bomba ultra bold ultra strong da indossare un outfit ovviamente magari total black ma anzi secondo me sta meglio meglio uno total white oppure insomma white grey insomma un outfit tonal con dei colori che siano neutri per non sembrare un clown quindi ecco le what the prod what the period passiamo poi a un altro paio di sneakers anzi non sono vecchio sneakers sono presi da black box le nuove slide appena rilasciate anche se queste erano già uscite volevo anche le arancioni però non si riesce a vincere infatti che si tratta delle resin con questo colore colore kiwi come chiama benedetta sono ben c'è un cazzo fa le slide sono come le scarpe sono meglio disegnate ultimamente non c'è nulla di superfluo monoblocco in schiuma eva insomma il materiale eva e cani in genio c'è un cazzo fa io c'ho già quelle marroni scuro non mi ricordo come si chiamano la colpa insomma avete capito quali e ho voluto prendere un altro paio perché non ci escono queste se non per andare al volo al supermercato non ci vado in giro in città anche perché a roma ti metti i calzini e le ciabatte diventano neri anzi marroni nel giro di quello smog che c'è diventano marroni in giro di un'ora proprio andare in giro per andare a casa insomma andare a fare una corsetta al supermercato al volo per comprare il cibo sono veramente una bomba di una comunità pazzesca per quanto riguarda il sizing io vi consiglio size up alcune persone dicono size up una taglia intera io consiglio una per me è una mezza taglia però dipende anche perché qua la fascia è abbastanza bassa quindi dipende anche da quanto avete alto il collo del piede quindi eccole qua le resine le easy side resine non vedo l'ora di indossarle vi ricordo poi il codice sconto barengo 10 per acquistare bombette come queste che ho fatto prima da degli uberti queste bombette estive come le chiamo io questa è veramente tanta roba figa figa e appunto con del codice sconto addizionale solo per voi miei scritti il codice barengo 10 io direi che poi questa specie di dub che casa sta a fare non lo so ma è tardi mentre sto registrando questo video quindi perdonate le questi gesti inappropriati ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale youtube sul mio instagram su un tiktok state aggiornate che presto farò vedere un altro video di produzione di come si fanno alcuni dei capi del mio brand garment workshop quindi mi raccomando seguite anche l'instagram del brand insomma già ve l'ho fatto vedere nel video precedente da federico per oggi è tutto ci becchiamo prossimamente seguitemi sui miei canali social rimanete aggiornati e bello a tutti grazie a tutti